Ciao ragazzi e ciao ragazzi, allora non so se sono in quadratura, sto guidando quindi non vi posso neanche guardare questo è un esperimento, allora ci ho preso gusto nel pensare a fare vlog, ma ovviamente di giornate particolari il mio primo e unico vlog, non so se l'avete visto, se non l'avete visto ve lo lascio nelle i delle informazioni è stato il vlog del mio compleanno, il 36esimo compleanno passato in quarantena ed è capitato a marzo da allora sto pensando di tanto in tanto se faccio qualcosa di carino di registrarmi la giornata e oggi visto che con i nuovi amici che sto frequentando abbiamo deciso di farci una passeggiata a Napoli oggi non mi ricordo neanche che giorno sia, un attimino, è il 6 giugno e ho deciso di vloggare la giornata, io normalmente quando mi facevo, mi faccio i viaggi eccetera prima di questa nuova fase della mia vita, ho sempre registrato pezzetti del viaggio, video eccetera perché mi piace avere un ricordo, a parte fotografico, anche i video di quelle che sono le mie vacanze o dei miei piccoli viaggi, piccoli spostamenti ora, io registrerò la giornata, non so cosa ne uscirà, se ne esce un vlog carino cercherò di mettere ovviamente dei pezzi, non so se i miei amici vorranno essere inquadrati non so nulla, ovviamente è un esperimento, quindi nulla, se quello che state per guardare vi piace mi raccomando supportatemi con un pollice in su, se non vuoi perdere tutti i miei prossimi video c'è sempre il tastino dell'iscrizione e io ora spengo perché devo guidare e nulla, buona giornata! sono ancora a Salerno ma ogni volta, scusate che sto guidando, ogni volta che passo di qua adoro il panorama che si vede e dico sempre che voglio fare una fotografia o un video così per ricordarmi la bellezza della mia città nelle giornate di sole, è stupenda e quindi ne approfitto, lo facciamo entro nel vlog credo che sto pensando alla visita special salve ragazze, salutate il vlog allora vi presento la signorina Porzia, l'antipatico Vincenzo Fabiano ha un nome e cognome, sotto vi lascerò il link di tu è il codice fiscale anche lì pazzo, mi piace saluta Anto al mio vlog a lei e a me a me dobbiamo andare a te lei che cosa deve ordinare l'altra? bellina la Coca-Cola e dove? a L'Iruda non era in gordo ah non era in gordo però ci dobbiamo andare a tutti gli euro ma che buonissimo anno c'era e vi presento anche il signor Marco è entrato anche lui nel mio vlog ci manca solo l'altro Marco e poi ci siamo tutti la nuova compagnia mi manca Gaia la nuova compagnia e il signor Marco ci siamo tutti si questo è del posturale cacchetto, limoncetto e acqua barricata è un pezzo del vlog questo è l'happy ending di oggi di oggi è l'happy ending della pizza della pizza è l'after della pizza brava ma hai fatto tutto no non ti ho beccato tutto giù andiamo a vedere che c'era di fronte non è incuriosita vive Napoli vive Napoli io non so più che il giorno aspettiamo sabato prossimo ovvio se no non c'è sfizio mi sto allenando ti stai allenando? allora voglio la ballad sto allenando sto studiando io ti ho fatto un pezzo al piano non mi hai mandato nulla mamma che c'è l'oggi io so che siamo a via dei tribunali a foglio sì, giusto ho indovinato mi ricordavo il campanile ragazzi sono un po' rompi scatola avrò la macchina delle tribunali e comunque volevo andare anche prossimamente alla galleria borgone ma molti sono stati delusi veramente? no è diventato il terraronismo da vedere eppure invece rispetto a Napoli-Sotterrania pure era una bella una bella partoggiata io e Napoli-Sotterrania non ci sono mai no wow è bellissima è una delle cose che mi sono perso e poi stiamo sempre a recuperare questa qua è dietro non ricordo c'è dove sei questo è proprio qua visitatela perché è bellissima dentro perché è l'unica che ha lo stile gotico andiamo a entrare? poi di là si fa gas per visitare i scavi se questo cacchio alcuni pezzi sono classofobici a un certo punto passi in un posto che se hai un po' di panza non ci passi ti ho giusto a un po' di panza non ci passi grazie a tutti Grazie a tutti. 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 Grazie. Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.